cari vergine la vostra dea protettrice è proprio venere che transita nel vostro segno e che pennella di rosa gli affari di cuore che può anche ammanzire un po la rottweiler zitella che dimora in voi e che a volte combina più danni della grandine a luglio quindi adesso siete in una fase in cui potete intortare la gente anche in questa settimana soprattutto sabato e domenica con una luna sponsorizzante anche la vita sociale i viaggi e gli spostamenti se dovete partire appunto per le vacanze è una settimana che certo qualche stress ve lo può dare visto che c'è mercurio nella vostra casa dodicesima astrologica però tutto sommato si può superare sorridete la vita vi sorriderà anche dal punto di vista suino vedrete grazie